Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutto ragazzi in questo nuovo video vi spiego come attivare così l'XMP sul BIOS della tua scheda metra e ovviamente ti stai chiedendo a cosa serve serve a migliorare così le prestazioni della RAM in una maniera facile e sicura ovviamente per attivare così questo XMP tu devi riavviare così il tuo sistema ed entrare nel tuo BIOS ovviamente riprenderò da telefono e ti farò vedere cosa devi fare ovviamente tu fai il riavvio del sistema poi una volta fatto premi F12 cange appena esce il logo della scheda madre sullo schermo ok una volta entrati nel BIOS questo è la trattino XMP e se andiamo su OC per regolare così la frequenza delle RAM tu basta che vai su DRAM FREQUENCY questo ci clicchi sopra e metti e imposti così la frequenza della RAM ci ho fatto anche un video sopra su come overclockare così le RAM e quindi questo tutorial ti spiego come abilitare a XMP quindi io clicco sopra ho attivato così l'XMP frequenza 3200 MHz io ho più di 32 GB di RAM ed eccolo qua una volta attivato l'XMP più regolato così la frequenza delle RAM quindi se tu per esempio hai 2130 MHz e vuoi portarli a 3200 proprio come c'è scritto sulla scatola oppure sulle RAM che hai comprato tipo le tue RAM sono di 3200 MHz oppure 3600 MHz ma te li trovi con 2130 MHz quindi tu ci clicchi sopra e qua e imposti così la frequenza e metto DDR4 3200 una volta fatto non mi resta che premere F10 e salvare così la configurazione quindi come ho detto sulla parte del BIOS se per esempio se vai su gestione attività prestazioni come puoi vedere 3200 MHz quindi a me è fino a 3200 MHz quindi se tu hai comprato delle RAM che arrivano fino a 3200 ma ti ritrovi con 2100 di MHz quindi le prestazioni sono veramente bassissime questa era la guida anche come overclockarle fino a 3200 e come attivare l'XMP tutto qua facile e sicura quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao